A circa 12 ore dal primo suono della campanella sul nuovo anno scolastico non si ferma l'impegno di Aspes per la manutenzione di giardini, piante e siepi delle 68 scuole complessive tra primo grado e istituti comprensivi della città di Pesaro. Un'attività che prosegue da fine agosto e che sta vedendo una cura minuziosa da parte degli addetti ai lavori per presentare agli alunni che il 13 settembre varcheranno il cancello una precisa armonia tra vialetti, recinzioni e il verde che li circonda. Come Aspes siamo impegnati per conto del comune di Pesaro a far sì che gli alunni di ogni ordine grado trovino le scuole accoglienti, soprattutto i giardini, visto che in questa stagione si può anche utilizzare l'esterno dei plessi scolastici. Ricordo che i plessi scolastici sono 68 con cui noi entriamo nella cura, un lavoro personalizzato anche perché non si tratta del semplice taglio dell'erba ma ci sono le siepi, si tratta proprio di una vera manutenzione della parte esterna dei giardini che curiamo, come dicevo prima, per conto del comune di Pesaro. Le piante sono tantissime, poi rispetto alle esigenze che ogni scuola ha vengono fatte manutenzioni di tipo diversa, ad esempio se le scuole sono per l'infanzia, i bambini hanno necessità di crearsi degli spazi in cui poter giocare, magari stanno sotto, si creano la propria capanna, diventa una cosa di questo genere, per cui le insegnanti con cui noi collaboriamo e le indicazioni cerchiamo di mettere in pratica ci danno e noi cerchiamo, come dicevo prima, di personalizzare giardino per giardino, spazio per spazio, a seconda delle esigenze che ogni plessio scolastico ha. Soprattutto si creano delle vere e proprie aule didattiche, ci sono tante le scuole che soprattutto in questo periodo e nella primavera scelgono di uscire all'esterno proprio per il contatto con la natura, ma anche per avere soprattutto nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole dove i bambini sono più piccoli, un rapporto diretto con quello che sono gli spazi esterni e quindi con la natura stessa.